Sono il nostro Funny Gamer, oggi siamo in un nuovo video di Rainbow che me l'ho anche promesso e vedremo cosa potremo fare ecco intanto lo mutiamo e vedremo cosa possiamo fare allora intanto ci prendiamo un bell'operatoricino chiamato Mute, dai prendiamo Mute speriamo di vincere la partita speriamo proteggete le bombe eccoci qua mettiamo Mute mettiamo Mute qua mettiamo Mute proprio qua Mute mi ero andato di qua? o qua? e un altro Mute ancora 5 secondi sorvegliate le bombe il nemico ha un disinnescatore ok togliamo l'obiettivo o frappà il nemico ha un disinnescatore Da lì, vero? Sì, da lì, appunto Cidetevi? Che cap'era? C'era la sinistra, qualche problema Non l'avete visto, l'avete visto, vero? Era sinistra, non era sinistra Non si sa, non si sa Non si sa Non si sa Non si sa Vabbè, vabbè Chi sta? Difensori neutralizzati Eh, era possibile uno contro 4 Ne ha fatto i tifotteratori Ah, eccolo dove? Ok Adesso in attacco Ci prendiamo un operatore Che credo, almeno, che questa mappa sia abbastanza utile Selezza con quale arma Io preferisco con lo scudo Sì Adesso mi sempre sento in commenti Ma cosa con lo scudo? Ma sei stupendo? No, io preferisco con lo scudo Ognuna le proprie cose da scegliere Allora Con questa squadra Non so come andrà Non lo so Pana e Thermite Può essere una combinazione bella Forte Lui Cosa che non so usare Quello era Non so usare Quattro Castolo Me l'ha distrutto Zero Però vabbè Dieci secondi Che c'è il disiniscatore? Che c'è là? Cinque secondi all'inserimento C'è il disiniscatore? Non lo so Raggiungete la bomba e disinnescatela Occhi aperti per il nemico N cherish Raggiungete l'inserimento Chucure che ci sarebbe D appear Gugge No C'è C'è Ci C'è 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 Grazie a tutti. Non hai più il disinnescatore. Non ho mai utilizzati tutti. Abbiamo il disinnescatore. Non ho mai. 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 qua. Non ho mai. qua. Qua si può entrare. Qua si può passare. Qua c'è una botola. credo. non ho mai. 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 aspettato. non ho mai. mai. non ho 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 mai. mai. non ho mai. non ho mai. non ho mai. non ho mai. no ho mai. vedendo. Eh va bene. dico che. l'arma di. capcanale. c'è anche. forte. dai ultimo. round. finiamo. perché di solito. i video. qua. durò 15 minuti. è un po' del genere. questa volta. me la prendo. io. con questo. con questo. rimetto i miei perché io di solito usano a tram non uso questo perché non è che mi sia tanto utile per non c'è per me non è tanto forte forse per qualcuno si però per me non troppo dai ok la schiena non la sono messa perché non la sono messa perché sono un idiota la squadra d'attacco ha trovato una bomba preparare l'insieme attenzione la squadra d'attacco ha trovato una bomba 5 secondi la squadra d'attacco ha trovato una bomba prepararsi all'azione nemica era lì seriamente ma dai ecco ecco ecco